Ma lei è di casa qui no? Ecco, brava. Eccoci qua. Allora, cos'è questa? La quarta serata? Quinta. Quinta serata. Quinta serata alla grandissima. Signora Coriaglio ci rivediamo dopo un po' di mesi. Mi fanno andare a Bologna Mare, che però è molto raffinato perché hai i grattacieli sulla spiaggia. Tipo maieri. Tipo maieri però sono un po' più trasandante. E invece qua per me è un ragazzone così. Hai visto? Io sono educata e impegnata perché in realtà viene un calore. Sono strafelice di essere qui. Sì, grazie. Noi che è di ospitarla. Il tino rosso di questa edizione della terrazza della Dolce Vita schiacoriandoli è L'amore salverà il mondo.